love 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 nuovo singolo per Mario Biondi tra le novità discografiche che stiamo suonando negli ultimi giorni qui su radio punto sud e come vi avevamo annunciato in apertura di questa seconda parte del play you Mario Biondi lo abbiamo in diretta telefonica ciao Mario buongiorno ci sei? buongiorno a voi ci sono ciao Mario buongiorno e benvenuto su radio punto sud come stai? sto bene oggi è una giornata un po' umida eh beh ti trovi dove precisamente? possiamo saperlo dove ti trovi? certo sono a Reggio Emilia in questo momento ah ecco ti trovi Reggio Emilia bene 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 allora intanto complimenti complimenti per questo tuo singolo complimenti ovviamente a queste tue splendide sonorità e love 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 qui la domanda nasce spontanea caro Mario no perché leggendo questo titolo mancano le due e nelle nei primi due love come mai questa scelta? ah mi piaceva l'idea di di dare una sonorità al titolo bene 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 era quasi un al posto di shalala ah bello 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 e poi c'è questa collaborazione con l'incognito eh com'è nata questa questa collaborazione con loro Mario? beh con loro oramai lavoriamo insieme da oltre dieci anni abbiamo fatto una prima produzione insieme a Shaka Khan e poi abbiamo fatto il disco Sun sì infatti 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 quindi una bella è un'amicizia è un'amicizia è un'amicizia più che altro vero vero tanti anni tanti anni ehm brano questo che appunto come abbiamo detto prima è incluso no in questo tuo nuovo progetto discografico un estratto no dal tuo ultimo album che prende il titolo di Dare che insomma sta andando bene direi giusto? direi di sì sono contento sei sei molto contento bene bene ascolta Mario tu pian pianino credo ci farai ascoltare no anche nel nel corso dei prossimi mesi gli altri estratti no da questo da questo nuovo progetto e però ovviamente adesso sarà un piacere e sarà un piacere sicuramente sicuramente e cosa bolle è in pentola per per quanto riguarda eh i prossimi mesi cosa cosa c'è un progetto credo che insomma la speranza sia quella di poter ritornare a fare musica no davanti a un pubblico credo giusto? siamo in attesa di un DPCM eh sì che ci dia la via libera insomma esatto 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 quindi se è in previsione una non lo so una tournée un qualcosa credo no? Certo 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 anche perché a causa della problematica covid abbiamo dovuto spostare posporre tutta la la tournée esatto esatto è un tournée che eh toccherà credo un po' di di tappe no? dovrebbe toccare un po' in tutta Italia giusto? Beh alcune parti d'Italia e poi sicuramente buona parte del mondo certo quindi ovviamente ascolta eh speriamo bene più che altro è certo è certo è certo so che c'è anche un videoclip no disponibile anche un videoclip per quanto riguarda questo brano giusto possiamo svelare qualcosa che riguarda questo videoclip dove è stato girato? Certo è stato girato esattamente dove mi trovo in questo momento ah bene benissimo a Ruote da Sogno a Reggio Emilia bello 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 videoclip che ovviamente i nostri ascoltatori potranno andare su su tutti i canali su youtube eccetera eccetera e così vedranno anche la popolazione di Ruote da Sogno sono tutti belli belle ragazze dei ragazzi bene 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 Mario ci sei? Sì ci sono ah ok ok ti avevamo ti avevamo un po' un po' perso quindi questo love 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 che insomma certificano la continuità no di questa eh collaborazione con 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 l'incognito eh c'è da ringraziare sicuramente qualcuno no per la riuscita di questo di questo progetto ovviamente oltre a te stesso no? Ma lì bisogna ringraziare veramente tante persone perché un progetto così complesso prevede prevede tante collaborazioni certo 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 Mario che dire noi ovviamente ti aspettiamo qui al sud in Puglia ok perché noi siamo siamo della della provincia di Brindisi quindi speriamo che nel più breve tempo possibile ovviamente si riesca e si ritorni soprattutto a a fare musica no? Quindi ti aspettiamo qui qui da queste parti ovviamente non vedo l'ora vi abbraccio a tutti ciao Mario grazie eh per essere stato dei nostri ciao Mario buona giornata grazie ciao ciao ciao